Che cosa hai deciso di ordinare tu? Boh, non saprei, ancora non l'ho deciso, ma perché me lo chiedi? Te lo sto chiedendo perché voglio ordinare basandomi su quello che ordini tu perché non voglio passare né per la scrofa della situazione mangiando più di te e né peggio di te, capito? Cosa ne pensi se tagliassi i capelli corti? Sono tanti anni che li porto sempre lunghi. Ma tesoro, i capelli sono tuoi, perché lo chiedi a me? Te lo chiedo perché in base a quello che mi rispondi decido cosa fare. Se mi trovi più attraente con i capelli lunghi, allora io evito di tagliarli corti. Oggi non ho pranzato e stasera soltanto una bella tisana calda. Beh, a chi lo dici? Io sono due giorni che vado avanti così, ci tengo alla mia linea. Sentite? Ma volete un cazzo di premio per questa cosa? Cosa, ma secondo te no? Questa feppa mi ingrassa? E vada bene a quello che rispondi, perché in base a quello che dici il mio amore cambierà da così a così in un secondo e avrai per l'intera giornata una rompipalle che ti gironzo l'attorno, ok? Ehi, bellezza, ti va un drink? Com'è? Ti ho chiesto se ti vado a bere. Ah, no, no, grazie. Cioè, nel senso, vorrei accettare, però sinceramente poi dopo se mi sentirei costretta a chiacchierare con te, a darti corda, magari ad uscire insieme a te, come non sei il mio tipo perché mi fai cagare esteticamente, preferisco starmene da sola a pallare che a morirmi di sede. Grazie. 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 Grazie.